Noi da un mese non giocavamo, i ragazzi sono stati grandi perché da 0-2 andasse il 2-2 dopo un mese senza partite, non è che abbiamo fatto degli allenamenti di gruppo, abbiamo fatto degli allenamenti quasi individuali, quindi è stata un'ottima prestazione in quel senso, però rimane sempre la mare in bocca, sempre sugli episodi, sta serie D per gli episodi è una cosa micidiale. Noi abbiamo fatto un mese di sofferenza con tanti contagiati, devo ringraziare la società e chi c'è stato vicino dello staff che ci ha dato una grossa mano con i tamponi eccetera, però effettivamente un protocollo ci vuole, anche perché poi giocare è bello, però effettivamente uno sport senza pubblico con queste situazioni non è bellissimo.